Una risposta assolutamente insufficiente da parte dell'assessore Impludente è circa la sospensione dell'attività di controllo e contrasto al cinghiale nella sola provincia di Teramo. Come tutti sanno siamo di fronte a un'emergenza regionale e nazionale che va contrastata con tutte le modalità legittime e possibili. Avevamo messo in campo un piano di controllo a livello regionale, sulle altre province il piano di controllo sta continuando a dare i suoi primi frutti. Purtroppo da mesi è fermo per volontà della provincia di Teramo, solo nella provincia di Teramo. Ci auguriamo che il governo regionale possa intervenire tempestivamente anche perché i danni all'agricoltura sono tantissimi, così come gli incidenti provocati. Dobbiamo raccogliere l'invito di tanti agricoltori, di sindaci, di amministratori, soprattutto dell'entroterra terramana che si stanno lamentando del fatto che tanti cinghiali sono in attività sulle campagne e sulle strade.